è davvero un grave fatto di cronaca quello accaduto ieri non il primo purtroppo ma per approfondire quanto avvenuto in questa villetta e con noi domenica francesco morea educatore cinofilo di bitonto buongiorno e grazie di essere con noi ed è l'educatore proprio dei tre cani tre rottweiler che ieri hanno compiuto questa aggressione allora tanto per cominciare come è andata lei che notizie ha se ha delle notizie ulteriori rispetto a quelle che abbiamo sentito nel servizio si io conosco personalmente i tre cani e ironia della sorte proprio il cane in questione pedro lo conosco personalmente non è un non è mai stato uno di quei cani aggressivi tra i tre pure anche il più più tranquillo si si è sempre fatto avvicinare quindi mi sembra anche non strano l'avvenimento però mi fa riflettere un po l'unica cosa che posso dire è che c'è stata sicuramente una mala gestione degli spazi poiché il cancello a quanto pare era aperto il cane a quanto riferito da dal proprietario è sempre andato in predazione sul bimbo e il cancello aperto ha ha creato un ha lasciato un varco nei confronti del bambino andare in predazione cosa significa sul piano tecnico di andare in predazione vuol dire che il il cane ha come unico obiettivo quello di raggiungere una preda quindi in questo caso il bambino è diventato una vera e propria preda la nonna poverina aveva il bambino in braccio quindi per difendere il bambino ha subito l'aggressione dei dei tre cani in questione l'unico che ha aggredito e il massi il maschietto gli altri due e mi sembra doveroso dirlo a quanto riferito non sono intervenuti nella nella rissa anzi a quanto riferisce un vicino si è sentito anche l'attrare un latrato da tra i vari cani e probabilmente sarà successo che la femmina in questione abbia cercato di separare il il maschio che aveva aggredito in questi casi si parla di cani di famiglia quindi cani che dovrebbero conoscere più che bene i loro padroni che eventualmente sono utilizzati per difesa nei confronti di estranei di ladri o di possibili minacce come è possibile che un cane aggredisca il proprio padrone può succedere che in mancanza del punto di riferimento quindi del ragazzo proprietario dei cani i cani non abbiano riconosciuto la figura sociale della signora poi ripeto c'è sempre il discorso della predazione del rottweiler sul bambino e quindi a volte capita che i cani entrano in questo tunnel psicologico che non permette a loro proprio di ragionare e di ottenere un autocontrollo che che in questo caso è fondamentale per evitare l'aggressione purtroppo di questi episodi ne accadono tanti in italia questo è soltanto l'ultimo è uno dei tanti purtroppo spesso sono coinvolti bambini nella gestione quando si hanno dei piccoli in casa ci sono degli accorgimenti particolari che bisognerebbe adottare visto che i piccoli spesso sono imprevedibili e questa imprevedibilità può essere scambiata per una minaccia per un attacco nei confronti dei casi sicuramente fondamentale fare una scuola di educazione per i cuccioli in cui proprio il cucciolino viene messo a contatto con dei bambini quindi si fa un lavoro sui passeggini sul bimbo sul pianto oltretutto può succedere che il cane sempre considerato fino all'arrivo del bambino è sempre considerato il bambino in questo contesto della famiglia poi viene messo fuori discussione quindi il cane va in frustrazione e se non viene fatto un buon lavoro di socializzazione tra cane e bambino senza mandare il cane in frustrazione possono succedere questi avvenimenti volendo dare così un consiglio a chi ha animali in casa animali anche abbastanza aggressivi perché parliamo di rottweiler ma ci sono anche altre razze canine abbastanza pericolose che tipo di consiglio possiamo dare intanto ai padroni di questi animali che talvolta sono i primi a subire le stesse aggressioni si sicuramente mai lasciare il bambino con il cane solo in casa cercare di far avvicinare con estrema cautela e attenzione il cane al bambino insegnare al bambino il rispetto nei confronti del cane ma soprattutto far capire al cane che il bimbo fa parte del nucleo familiare e mai escludere il cane dal contesto di casa quindi insomma deve essere deve sentirsi uno di famiglia anche lui assolutamente così come era prima dell'arrivo del bambino bene allora speriamo che questi consigli possano servire a chi ha dei cani anche nella gestione degli stessi quando arrivano degli ospiti in casa che talvolta magari hanno anche un po timore di questi di questi animali e auguriamoci che le condizioni di questa signora e del piccolo aggredito ieri in questa villetta possano migliorare quanto grazie a tutti